E quindi iniziamo con Yugo che mi direi sul parco. Vieni Luca. Ti lascio il potere. Il microfono ha ragione. Piero scusami, adesso faccio un botto e non me lo ricorderò. Grazie. Le regole le sai, a 5 minuti vi interrompo, consideri cosa accada. Prego. Buongiorno a tutti, sono Luca Cerolini e oggi vorrei portarvi in un viaggio nel mondo dell'alimentazione. Un viaggio che parte da una domanda che tutti noi ci poniamo ogni giorno. Cosa mangiamo? Abitando con altri inquilini, questa era la domanda più frequente. Questo si tramutava in tempo perso per scegliere che cosa mangiare giornalmente. Ripetività dei pasti che a lungo termine ci stava stancando e soprattutto in cibo sprecato il fine settimana per non aver pianificato adeguatamente i nostri pasti. Ci siamo chiesti se il problema fosse solamente il nostro. Abbiamo intervistato 450 persone. E risulta evidente il legame tra ripetività dei pasti, spreco di cibo e pianificazione alimentare. Inoltre si evidenzia anche come il 60% degli intervistati definisca come troppo il tempo impiegato per gestire la propria alimentazione. Ma per dare qualche dato in più sul problema. Solamente in Italia ogni anno vengono sprecati 67 kg di cibo da ogni persona. E le cause dello spreco sono a ricercare nella mancanza di conoscenze e di competenze culinarie adeguate. Infatti il 43% degli italiani non segue le linee guida per una sana alimentazione. Il mercato alimentare supera i 300 miliardi di euro. Quello della nutrizione personalizzata e dell'applicazione digitali di dieta e nutrizione sono in forte crescita. Con un valore stimato di quest'ultimo al 2030 di un miliardo di euro. Visti i problemi riscontrati e soprattutto le opportunità siamo pervenuti a una soluzione. Ayuko. Ayuko è un'applicazione mobile che grazie alla pianificazione alimentare automatica e personalizzata mira a ridurre lo specco di cibo, tempo e denaro. Promuovendo una dieta sana costruita su alimenti stagionali. Dopo un'iniziale raffinazione riguardo la dieta che l'utente sta seguendo, intolleranze alimentari, alimento che possiede e preferenze di tempo e gusto, Ayuko proporrà un piano alimentare calibrato sulle sue esigenze. L'utente con un semplice swap potrà scegliere velocemente quali saranno i pasti che comporranno il proprio piano alimentare. Quando sarà soddisfatto la lista della spesa sarà stilata in automatico con possibilità di farsela consegnare a domicilio. Gli alimenti saranno spostati nella dispensa dove saranno consigliati i migliori metodi di conservazione. Ed infine per accompagnare l'utente nella preparazione ad ogni piatto sarà affiancata una videoricetta intuitiva. Tutto questo per ottimizzare a 360 gradi l'alimentazione. Partendo dalla scelta del piatto alla sua preparazione fino alla gestione degli avanzi. Ma perché proprio ora? Perché è in forte crescita la ricerca del consumo sostenibile e della nutrizione personalizzata. Cerchiamo sempre più di risparmiare tempo. E questo è possibile anche grazie ai nuovi supporti tecnologici che si stanno sviluppando. Per affinità e trend abbiamo scelto come target iniziale quello degli studenti universitari fuori sede. Infatti sono quelli che da più giovani si interfacciano con il problema, hanno un'elevata adozione dei dispositivi digitali, sono rivolti verso il consumo sano e sostenibile ma non hanno i mezzi necessari. Ci siamo posizionati rispetto ai competitor utilizzando come metriche la pianificazione automatica e la personalizzazione. Molte di loro propongono dei piatti lontani dalla cultura collinare italiana, mentre altri non soddisfano le esigenze di personalizzazione o non sono economicamente accessibili a lungo termine. Il nostro servizio base sarà gratuito. Guadagneremo dalla parte degli utenti grazie a una provisione sul costo della spesa quando sarà consegnata a domicilio e da acquisti in app. Ma i nostri maggiori profitti vogliamo attenerli dalla collaborazione con aziende produttrici e distributrici, grazie alla monetizzazione sul numero dei clienti portati, sull'esclusiva dei prodotti proposti, attraverso la vendita dello spazio pubblicitario e di dati alle stesse aziende. Abbiamo stretto accordi con tre supermercati nelle marche con i quali stiamo testando il nostro prototipo. La nostra beta è con proposta manuale curata dalla nostra biologa nutrizionista, ma la personalizzazione è molto elevata. Questo è il nostro team ed è il nostro valore principale. All'interno abbiamo tutte le competenze necessarie per sviluppare l'applicazione e per pubblicizzarla. Questo è il nostro fabbisogno, 120.000 euro da spendere in 12 mesi, soprattutto in marketing e in sviluppo grafico. Gli obiettivi prefissati sono lo sviluppo completo dell'app, 5.000 utenti attivi dopo 6 mesi dal lancio, 10.000 followers nei nostri canali social, stimando il raggiungimento del breakeven point a 10.000 utenti attivi. Dopo l'uscita dell'MVP con proposta manuale, a lui usciremo con l'MVP con proposta automatica. Questo ci permetterà di scalare numericamente, investiremo nella pubblicizzazione e cercheremo gli investimenti necessari per uscire ad aprile 2025 con la nostra versione finale. E questa è Yuko, la nostra soluzione per mangiare sano, risparmiare tempo e abbattere lo spreco alimentare. Grazie. Bravissimo. Mi sono avanzati 15 secondi. Bravissimo. Bravissimo. Allora, grazie e 5 minuti di domande. Chi inizia? Per favore domande brevi e risposte brevi, così ne facciamo tante. Ciao Luca, grazie mille, complimenti. Io volevo chiederti, rispetto alla mappatura dei fornitori e le attività produttive che poi consegneranno il cibo, avete già fatto una mappatura, avete degli standard di impatto ambientale? Allora, inizialmente ci appoggeremo con i supermercati e le catene di distribuzione che hanno già stretto accordi con dei servizi di consegna a domicilio. Ci impronteremo verso coloro che ovviamente saranno più sostenibili. Quindi faremo uno studio adeguato a riguardo e il servizio di consegna a domicilio lo implementeremo nel nostro prototipo con proposta automatizzata. Grazie per la domanda. A me non è molto chiaro, è tutto molto chiaro, il punto che non era chiaro è la vostra unique value proposition rispetto ai vostri competitor, cioè gli unique selling point dove sono? Grazie per la domanda. Il nostro punto di valore è nell'ottimizzazione dell'alimentazione, nell'accessibilità che noi proponiamo con il nostro servizio. Infatti i ragazzi in primis sono coloro che da più giovani si interfacciano con questo problema e dall'indagine è emerso come impiegano molto tempo per arrivare ad avere le conoscenze necessarie per seguire un'alimentazione sostenibile. I nostri competitor non permettono ai ragazzi in primis un costo accessibile ai servizi, per cui non sono seguiti e non sono sfruttati dai ragazzi in primis. Avete fatto qualche simulazione dei costi che vi potete permettere, dei prezzi che vi potete permettere verso il pubblico e qual è il limite di accessibilità per i vostri clienti paganti? Allora, i clienti paganti pagheranno all'interno dell'applicazione servizi premium e masterclass. La stima che abbiamo fatto è per una spesa media data dall'istat di 330 euro al mese per i single giovani in Italia con una provvisione del 2% sul costo della spesa e un'ipotesi del 50% di conversione degli utenti che utilizzano un'app che sfruttano la consegna a domicilio, dato il dato italiano del 40% in media appunto dello sfruttamento della consegna, abbiamo ipotizzato che per 5.000 utenti arriveremo a 200.000 euro di fatturato. Ok, non so se ci sono altre domande. A proposito di utenti, come pensate di raggiungere il target che vi siete prefissati? Il numero di utenti? Grazie per la domanda. Raggiungeremo il target soprattutto con una pubblicizzazione nei canali social dato che sono appunto quelli più utilizzati dal nostro target in primis. Ci appoggeremo poi alle università per fare della pubblicizzazione in loco all'interno delle università dove appunto per eventi o per le feste di immatricolazione creeremo degli stand dove dare la possibilità ai ragazzi che nel primo anno delle superiori si trovano a abitare da soli e quindi un'opportunità per mangiare sano e non sprecare cibo soprattutto. C'è ancora un minuto se volete. Quindi sarete fully committed su questo, giusto? Sì, saremo concentrati al 100% su questo. Rispetto all'allocazione di 120.000 euro di cui siete alla ricerca vedo che solo 24.000 euro sono destinati agli sviluppi tecnici. Questo come coincide con il presentare funzionalità e accessibilità migliori rispetto ai vostri competitor? All'interno del team abbiamo due ingegneri informatici e due sviluppatori software e hanno le competenze adeguate per sviluppare l'applicazione. Abbiamo allocato comunque un 15% in sviluppo software e un 25% in sviluppo grafico. Benissimo, grazie. Ok, grazie. Tempo finito, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.